Stasera torna in campo la Serie C con i play-off, quattro incontri che avvicinano le partecipanti all'assalto della Serie B. Al San Nicola il Bari di Vivarini attende la Ternana in un revival della stagione regolare. I galletti o le fere in caso di passaggio del turno se la vedranno come la vincente di Carrarese e Juventus 23, con i baby bianconeri di Mister Pecchia caccia dell'ennesima impresa dopo aver steso il Padova di Mandorlini. Potrebbero ritrovarsi dunque ad avversari gli ex Avellino Frattali e Tavano in forza ai Pugliesi e Toscani. Il potenza dei miracoli e dei vecchietti terribili dopo aver steso la Tristina con il sempreverde Franza va in casa della sorpresa reggiana. La gara sarà trasmessa in chiaro alle 20.45 in diretta su Rai Sport. Ai Lucani servirà il risultato pieno per accedere alle semifinali in caso di Blitz ad attendere gli uomini di Giuseppe Raffaele o il Carpi o il Novara del bomber Pablo González.